Eccoci con mister Mancino, mister è un primo tempo dove avete speso tante energie ma comunque siete riusciti a passare in vantaggio La Samba ha dovuto comunque sudare per questa vittoria, che partita è stata? Sì, è stato un primo tempo importante, secondo me uno dei migliori che abbiamo fatto Infatti tra il primo e il secondo tempo ho fatto complimenti ai ragazzi perché mi chiamano che questa è l'anima che io questo voglio Anche se siamo retrocessi, quello che in questo momento non deve mancare l'impegno è onorare questo campionato sicuramente, fino alla fine Che effetto gli ha fatto venire a giocare qui al Rivele delle Palme, uno stadio comunque molto grande anche per la tifoseria Anche se non è molto numerosa in questo momento ma ha calcato palchi importanti Sì, io qua ci ho giocato parecchie volte anche con il Napoli, ci ho giocato con la Sabinettino parecchie volte Già sapevo comunque il clima di questa piazza, mi dispiace che stai in questa categoria perché veramente merita qualcosa in più Siccome per i ragazzi della mia squadra sicuramente ha fatto un effetto importante però ha onorato veramente questa partita Adesso lei sta facendo sia l'allenatore che il giocatore, pensa che proseguirà su questo cammino? Sì, sicuramente vediamo, c'è l'ultima partita, poi vediamo un attimo il mio futuro Sicuramente questo è quello che piace a me e continuerò a farlo sicuramente Grazie mister, in bocca al lupo Grazie a tutti